Domenica di fuoco a Forio, risse all'esterno di due strutture alberghiere, ritornano i piromani sul monte Pomeo. Controlli della polizia, gli agenti del commissariato di Ischia arrestano un ventenne napoletano per estorsione. Sanzionati diversi locali della Movida, controlli anche della polizia municipale. Altro boom di transiti sui porti isolani nell'ultimo weekend. La guardia costiera soccorre un'imbarcazione in fiamme. Disaggia ai Maronti, Maria Grazia di Scala. Nonostante la presenza di un assessore ai Maronti, il problema non viene affrontato dall'amministrazione Gaudioso. Mancanza di una guardia medica turistica sull'isola d'Ischia, il sindaco Pascale, un fatto gravissimo. Sull'ingresso delle isole minori nella Costituzione, risultato eccezionale ottenuto grazie all'ottimo lavoro del presidente del DEO. Real Forio ripescato in eccellenza, i bianco-verdi inseriti nel girone A con l'Ischia. Oggi al via la preparazione della squadra di mister Vigone Monti. Protezione Civile Regione Campania, allerta meteo gialla dalle 12 alle 21 di martedì 9 agosto. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Nuvola TV. Una buona settimana a tutti voi. Riprendiamo l'appuntamento con l'informazione. Abbiamo ascoltato dai titoli di questa sera gli argomenti di cui parleremo in questa edizione del nostro telegiornale. Ampia pagina in apertura dedicata alla cronaca, alle tante situazioni accadute in diversi comuni del territorio isolano con numerosi interventi delle forze dell'ordine su più fronti, sul chiamata in seguito a risse e litigi, ma anche controlli da parte di Polizia, Carabinini, Polizia Municipale, sia sul tema della sicurezza stradale che anche nel settore della Movida. È stato un weekend in cui sono stati sanzionati numerosi locali. Non parleremo solo di questo, parleremo anche di attualità, strettamente legato a quanto ha fattuto in questo fine settimana anche la polemica sui maronti con un intervento del consigliere di minoranza Maria Grazia Di Scala. Parleremo però anche di sport nel mezzo alla notizia e il preavviso della protezione civile della regione Campania che vede un'allerta di colore giallo per la giornata di domani e quindi ci potrebbe essere un improvviso maltempo in arrivo anche sulla nostra isola. Ma andiamo con ordine, iniziamo dalla cronaca, quella di ieri a Forio non è stata di certo una domenica tranquilla, nel tardo pomeriggio infatti due risse si sono scatenate all'esterno di due strutture alberghiere della comune all'ombra del Torrione. La prima in zona Fortino e la seconda più euttardi in seconda serata, all'esterno dell'hotel Punta del Sole. In serata inoltre un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato in zona Monte Comeo, non troppo lontano da Santa Maria al monte, fortunatamente in una zona che non vede la presenza di abitazioni. Le operazioni per spegnere l'incendio sono proseguite nella notte e nella mattinata di oggi. Facciamo il punto della situazione su quanto ha caduto nel servizio che segue. E' arrivato agosto e, mancabili con l'arrivo del mese più caldo, sono arrivati anche gli ormai abituali problemi di ordine pubblico, coinvolte non a caso le zone più calde e notoriamente difficili, affollate da vacanzieri in fitto appartenenti al turismo, cosiddetto di prossimità. Ed è stata una domenica infernale, quella vissuta sull'isola d'Ischia, protagonista di tre episodi che hanno impegnato le forze dell'ordine in maniera particolare. In tarda mattinata, sul piazzale dei Maronti, gli animi tra gli automobilisti si sono surriscaldati e ne è nato un litigio che, tuttavia, stando a ricostruzioni più approfondite, non ha portato né a scontri fisici né tantomeno all'intervento del 118 e delle forze dell'ordine. La problematica dei parcheggi e della circolazione veicolare nelle ore di punta del weekend esiste ed in effetti meriterebbe di essere affrontata. Sempre ai Maronti sono diverse le persone che ogni giorno percorrono gli arenili proponendo, spesso con insistenza, prodotti ai turisti senza avere alcuna autorizzazione alla vendita. Un'attività monitorata e punita dai carabinieri della stazione di Barano, invocata dai tanti commercianti onesti dell'isola. Cinque le sanzioni notificate ad altrettanti venditori abusivi di telimare e costumi da bagno. Contestualmente ai multati è stato notificato l'ordine di allontanamento dall'isola. I controlli, in questo campo, continueranno anche nei prossimi giorni, fanno sapere i carabinieri. Nella serata di domenica, invece, a Forio, le cose sono andate molto peggio. Una maxirissa si è scatenata in zona Fortino. Secondo le prime indiscrezioni è stato coinvolto un fotogruppo di persone, protagoniste di scene davvero violente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e diverse volanti della polizia. È stato necessario l'intervento del 118 perché alcune persone coinvolte sono state ferite ed è stato necessario il trasferimento presso l'ospedale Rizzoli. Gli inquirenti dovranno stabilire la causa scatenante dei gravi fatti che cominciano a vedersi con molta più frequenza in questi primi giorni di agosto rispetto ai mesi di giugno e luglio che sono trascorsi invece abbastanza sereni. Non si esclude la possibilità che i responsabili vengano fermati dalle forze dell'ordine, prontamente intervenute sul posto e intenzionate a prendere provenimenti sul caso, indagano i carabinieri, ma a 24 ore dall'accaduto non si hanno ulteriori notizie. Sempre a Forio, in questo caso alle 22.30, l'hotel Punta del Sole è stato protagonista di spiacevoli episodi. Diversi turisti hanno lamentato scarsa pulizia delle camere, problematiche nella sala ristorante e più in generale non erano contenti di ciò che hanno trovato nella struttura rispetto a quanto invece si aspettavano. È stata messa in discussione non solo la struttura stessa, ma anche l'agenzia di viaggio. I turisti protagonisti in verità sembrerebbero originari di diverse città italiane e dunque non solo della vicina Napoli. Tra questi qualcuno è andato oltre le semplici lamentele e anche in questo caso gli animi si sono surriscaldati, rendendo necessario l'intervento di diverse volanti della polizia. Molti turisti sono andati via, ad alcuni è stato già rimborsato l'importo pagato. In ogni caso, una volta placati gli animi con difficoltà si è cercato di far comprendere agli ospiti che eventualmente bisognava affidarsi ai legali per poter eventualmente reclamare le problematiche riscontrate. Tra i due episodi, sempre a Forio, si è dovuto assistere anche al primo grande incendio della stagione 2022. In effetti quasi non fanno più notizia gli incendi in questo periodo. Stavolta le fiamme hanno bruciato diversi ettari di terreno in zone impervie del Monte Pomeo tra i Frassitelli e Santa Maria al Monte. Una traiettoria ben definita che non lascia dubbi sull'origine dolosa delle fiamme. Il calare della notte e la zona impossibile da raggiungere con i mezzi di soccorso ha costretto vigili del fuoco e Forio CB a fare l'impossibile per controllare il fuoco e tenerlo lontano da eventuali abitazioni o terreni privati. Con il soggere del sole si è potuti poi ricorrere all'elicottero, riuscendo con non poche difficoltà a spegnere le fiamme. Se questo è il modo in cui è iniziato il mese di agosto, la sensazione è che ci aspettano settimane davvero molto difficili. Sabato pomeriggio un uomo dipendente di un centro scommessi di Ischia si è recato presso gli uffici del commissariato per denunciare di essere stato vittima di estorsione. Gli agenti del commissariato di Ischia sono riusciti però ad individuarlo il giorno seguente grazie all'individuazione del malcapitato all'interno di un negozio. Durante i controlli nel weekend gli agenti del vicequestore Re hanno sanzionato amministrativamente per violazione delle ordinanze sindacali tre locali della Movida ischitana. Non sono mancati anche i controlli della Polizia Municipale, come dicevamo prima, che nell'ultimo weekend ha elevato numerose sanzioni. In attività anche la Polizia Municipale di Forio per il contrasto all'ambulantato abusivo. Sabato pomeriggio un uomo dipendente di un centro scommessi di Ischia si è recato presso gli uffici del commissariato per denunciare di essere stato vittima di estorsione. In particolare ha raccontato che il giorno precedente, mentre stava svolgendo il suo turno di lavoro, un ragazzo con la minaccia di un coltello gli aveva intimato di procedere con alcune scommesse fino ad un importo di 1.135 euro senza corrispondere il relativo importo per poi salire a bordo di una bici elettrica e darsi alla fuga. Ieri mattina gli agenti del locale commissariato grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza dell'agenzia e grazie alle descrizioni fornite dalla vittima in sede di denuncia nel transitare in via Francesco Buonocore hanno notato la bicicletta utilizzata dal malvivente parcheggiata nei pressi di un'attività commerciale. Lo hanno rintracciato e bloccato al suo interno. I poliziotti hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di villeggiatura del giovane dove hanno rinvenuto l'abbigliamento utilizzato per commettere il reato e un orologio di lusso sulla cui provenienza non ha saputo fornire spiegazioni. Un ventenne napoletano con precedenti di polizia è stato sottoposto a fermo trasferito immediatamente appoggio reale e altresì denunciato per ricettazione. L'impegno delle forze dell'ordine è sicuramente concentrato su più fronti. Quello della sicurezza stradale e quello della movida sono i settori più attenzionati soprattutto in vista dell'aumento considerevole della popolazione che affollerà l'isola in queste settimane. Da parte degli uomini della polizia guidati dal vicequestore Ciro Re sono state identificate 470 persone e complessivi 211 veicoli con 28 contestazioni al codice della strada così suddivise. Tre sanzioni per sorpasso in curva con ritiro di patente, due per velocità eccessiva, tre per non aver indossato il casco protettivo, si è proceduto contestualmente anche al fermo amministrativo dei veicoli, una perché la vettura circolava sul territorio nonostante il divieto di sbarco ai residenti in Campania, tre sanzioni per mancata copertura assicurativa, anche in questo caso con fermo amministrativo, sei per mancata revisione, cinque invece le persone denunciate in stato di libertà all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza. A carico di tutti i soggetti è scattato anche il ritiro della patente. Ma non è tutto, sono stati eseguiti una serie di verifiche ad esercizi commerciali di intrattenimento nelle zone di corso Vittoria Colonna e della riva destra con l'intento di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nelle recenti ordinanze firmate dal sindaco Enzo Ferrandino. Al riguardo il personale guidato dal vicequestore re ha provveduto ad irrogare sanzioni amministrative ai titolari di Bar Vittoria, Gatto Bianco e Mojito. Sullo stesso fronte si è svolto anche il lavoro degli uomini della Polizia Municipale del Comune di Ischia coordinati dalla comandante Chiara Romano. La Polizia Municipale ha ulteriormente intensificato i controlli ponendo in essere una serie di attività volte a garantire la sicurezza e la vivibilità del territorio per cittadini e turisti. Le attività di controllo sono state svolte sia da personale in borghese con veicoli civetta sia da personale munito di strumentazione elettronica di tipo autovelox ed hanno portato alla contestazione di 23 violazioni per divieto di sorpasso, 12 violazioni per superamento dei limiti di velocità, 8 automobilisti sono stati sanzionati perché facevano uso di telefonini mentre erano alla guida, 4 violazioni sono state elevate per mancata revisione periodica dei veicoli e 4 perché non veniva rispettato il divieto di sbarco e circolazione sull'isola Rischia. Inoltre, nell'ambito delle verifiche sui locali notturni, sono state controllate 18 attività ed elevati 4 verbali ad esercenti per il mancato rispetto delle prescrizioni delle concessioni di suolo pubblico ed uno di essi perché risultava del tutto sprovvisto della suddetta autorizzazione. Sempre nell'ambito del controllo sulla movida notturno venivano sanzionati da parte della polizia locale tre gestori per non ottemperanza all'ordinanza sindacale 133 del 2022 che disciplina l'emissione della musica. Nel frattempo si sta cercando di mettere un freno anche all'ambulantato abusivo soprattutto sulle spiagge. In questo caso gli uomini della polizia municipale di Forio, coordinati dal comandante Iacono, hanno effettuato numerosi controlli presso i frequentatissimi lidi del territorio comunale. L'assistente Francesco Schiano di Cosce, luogotenente Antonio Daiello e l'agente Mario Pansardi, a seguito dei controlli effettuati volti al contrasto del fenomeno dell'ambulantato e dell'ombrellone selvaggio, hanno posto sotto sequestro merci di vario genere, ombrelloni e sedie sdraio presenti in spiaggia ed incustoditi. Ancora la cronaca nel weekend appena trascorso. La Guardia Costiera di Ischia, sotto il coordinamento della direzione marittima della Campania all'interno del dispositivo nazionale inerente all'operazione Mare Sicuro 2022 del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera ha eseguito una costante attività di controllo e pattugliamento in mare diversi. Sono stati gli interventi di assistenza e soccorso ad unità da diporto in difficoltà in particolare. Si segnala un principio di incendio a bordo di un'unità da diporto, con a bordo una famiglia e due bambine, sia la prontezza del diportista che l'immediato intervento supposto di una motovedetta della Guardia Costiera ha fatto sì che l'incendio non divampasse, evitando ulteriori conseguenze. I diportisti sono stati messi immediatamente in sicurezza e l'unità ricondotta agli ormeggi. Arrivano notizie e dati interessanti anche in merito ai flussi turistici, in particolare nelle giornate da venerdì a domenica sono transitati nei porti di Ischia, Casa Micciola e Forio circa 70 mila passeggeri, ovvero 38 mila in arrivo e 32 mila in partenza e un totale di circa 5.800 veicoli. Un trend quindi che vede ancora in crescita il numero di arrivi rispetto alle partenze. Ancora con l'ultima notizia di cronaca, la protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per piogge e temporali di colore giallo valido dalle 12 alle 21 di domani martedì 9 agosto sull'intero territorio regionale. Si prevedono rovesci e temporali sparsi, anche intensi in talune aria. I temporali infatti saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale. Potrebbero esserci improvvisi temporali e soprattutto potrebbero esserci anche fulmini e grandine con conseguente caduta di rami o alberi sulle strade. Dunque si raccomanda la massima attenzione proprio perché i fenomeni soprattutto in questo periodo rischiano di essere intensi, seppur brevi, ma assolutamente pericolosi. Ritorniamo ancora a parlare di attualità, un argomento che per la verità abbiamo accennato prima nella pagina di cronaca riguardo a quanto accaduto ieri mattina ai Maronti. La stagione turistica va a gonfie vele, ciò comporta l'aumento dei disagi nella zona. Dell'argomento ne abbiamo parlato con il consigliere di minoranza, Maria Grazia di Scala. Nonostante ci sia un assessore designato alla zona dei Maronti, l'amministrazione di Nionigi Gaudioso non affronta questa problematica dichiaratola di Scala, riferendosi alla totale assenza di parcheggi e soprattutto di navette che possano collegare la baia dei Maronti con le frazioni del comune di Barano. Il problema non viene affrontato nonostante il comune di Barano goda di una presenza importante, è stato nominato da oltre 15 anni che io ricordi, sicuramente c'era già ai tempi del sindacato del dottor Paolino Buono l'assessore ai Maronti, la delega ai Maronti, cioè le problematiche dei Maronti. Nella persona è sempre la stessa dell'ingegnere Sergio Buono che sinceramente non ho mai sentito proferire parola sulla problematica dei Maronti e non si può nascondere che queste problematiche ci sono. Ogni anno nel mese di agosto ci ritroviamo punto e da capo con questo casino indescrivibile che deriva nella sostanza dalla mancanza dei parcheggi e dalla mancanza della Polizia Municipale che purtroppo è decimata anche perché sappiamo bene che il concorso non è stato fatto, comunque i posti messi a bando sono pochi e sarebbero comunque insufficienti ma già qualcosa e quindi questo coincidere di tutte queste circostanze determina quello che è accaduto ieri, che accadrà domenica prossima, che accadrà tra due domeniche. Noi come minoranza abbiamo avanzato richiesta già nel 2020 per la prima volta per affrontare questa problematica ma era una richiesta propositiva, non una richiesta di critica tanto per fare opposizione, una proposta. A Dischia c'è una navetta Zizi che è messa a disposizione dal Comune gratuitamente per raggiungere il centro e per evitare l'affornamento di macchine nelle strade centrali del Comune. Mi risulta che venga pagata per circa 5.000 euro al mese con i proventi delle strisce blu. Perché non fare la stessa cosa a Barano dove non occorrerebbe farlo tutti i giorni perché bene o male durante la settimana per arrivare alla spiaggia dei Maronti i due parcheggi sono sufficienti e comunque i mezzi dell'EAV sicuramente bastano insomma per le esigenze della comunità. Occorrerebbe farlo nei fine settimana, due volte a settimana, sabato e domenica. Quanto può costare? Una 1.000 euro solo per il mese di agosto? È una spesa veramente irrisoria che potrebbe però risolvere efficacemente il problema prelevando, lasciando parcheggiare le macchine nelle zone più periferiche del Comune e prelevando gli utenti della spiaggia che potrebbero avvalirsi di queste navette. Abbiamo proposto in questa interrogazione che si sfrutti il parcheggio di Piedimonte che è vuoto. Fate mettere le macchine in quel parcheggio ovviamente a pagamento e magari con il biglietto del pagamento del parcheggio di Piedimonte si può scendere gratuitamente utilizzando la navetta. Insomma è una problematica che va affrontata e che l'assessore Amaronti e il sindaco non hanno mai affrontato. Manco a dirlo, a questa interrogazione non abbiamo avuto nessuna risposta. Cambiamo argomento ma restiamo sempre nell'attualità. Nei giorni scorsi il Cudas ha lanciato all'allarme per l'assenza di una guardia medica turistica sull'isola d'Ischia invitando le istituzioni e gli operatori del turismo ad alzare la voce per ottenere l'attivazione del servizio di guardia medica turistica. La mancanza di una guardia medica turistica sull'isola è un fatto gravissimo, ha dichiarato il sindaco di L'Acquamino Giacomo Pascale con il quale abbiamo commentato anche l'ingresso delle isole minori all'interno della Costituzione italiana. Un risultato eccezionale ottenuto grazie all'ottimo lavoro del Presidente del Deo. Capitolo guardia medica, ad agosto ancora non è stata attivata la guardia medica turistica, non credi che sia un fatto grave? Non è grave, è gravissimo, è gravissimo e c'è anche la colpa nostra, io ho preso posizione su questo punto ma c'è anche la colpa nostra nel senso di tutti coloro i quali possono in qualche modo intervenire, l'ho fatto anche pubblicamente non solo nella qualità di sindaco proprio per tenere alta la guardia. Sì è gravissimo perché siamo al 5 agosto, è gravissimo perché dal 2021 avevamo questo servizio che poi quest'anno andava maggiormente organizzato atteso anche che usciamo dal periodo, come dire, affrontiamo la prima estate con i turisti post Covid, tenga conto che anche Procida che paga un prezzo salatissimo, oggi è capitale della cultura, ha un numero di presenze mai visto prima, mai registrato prima e sì sì non è grave, credo che sia gravissimo, io l'auspicio è che anche grazie a voi la Napoli 2 si possa velocemente organizzare in tal senso, quando a luglio è stata consegnata da parte del CUTAS questa richiesta al dottore D'Amore, chiaramente l'ha ricevuta come uscente, nel senso che dice se ne occuperà il mio sostituto, però effettivamente è gravissimo e sicuramente ancora più grave se si pensa che vanno nella direzione dei servizi, di un servizio essenziale quale quello della sanità, che è un servizio soprattutto in questo momento da offrire ai turisti che ci scelgono e che quindi vogliono una certa tranquillità, sì sì sono d'accordo con lei, molto molto grave. Le isole minori entrano in Costituzione, quali dovranno essere i prossimi step per tutelare realmente questi territori? Beh innanzitutto io farei una premessa prima di rispondere alla sua domanda, noi siamo 27 isole, 35 comuni, 230 mila abitanti, la modifica all'articolo 119 della Costituzione riconosce finalmente la peculiarità delle isole, promuove le misure necessarie per rimuovere gli svantaggi della insularità, ce lo siamo sempre detti, sono anni che abbiamo dibattuto, soprattutto gli addetti ai lavori, le persone diciamo che ricoprono un ruolo pubblico, se era o no il caso di decidere di portare l'ancim nel lanci per avere una maggiore cassa di risonanza, in effetti questa scelta non è stata mai fatta, devo riconoscere come tanti sindaci delle isole minori, anche quale componente del direttivo Regione Campania, che è stato fatto un lavoro eccezionale da questa presidenza del Deo, sindaco di Forio, che è riuscito a portare le voci e i disagi dell'isola all'interno del Parlamento. Questa modifica è un risultato eccezionale sul piano strettamente legislativo, appare evidente che nulla cambia poi nella vita dei cittadini isolani laddove questo riconoscimento in Costituzione non determina atti concreti. Gli atti concreti possono essere innanzitutto lo statuto speciale, come diceva, come auspicava lo stesso Presidente, ma un altro atto concreto può essere sicuramente l'allocazione di risorse all'interno della nuova legge di stabilità e della nuova legge di bilancio del governo, ed evidentemente bisogna aspettare il nuovo governo, atteso che si vota il 25 settembre, e sicuramente lì dovranno essere allocate le risorse per poi rimuoverle concretamente queste criticità. Penso per esempio alla giustizia, infatti si parla di giudere i tribunali di Ischia, di Lipari, piuttosto che dell'isola d'Elba, penso per esempio alla sanità, penso ai trasporti in terraferma dei rifiuti, penso alle energie alternative per l'isola d'Ischia, penso alla scuola, al personale della sanità che non trova conveniente venire da Ischia perché non c'è nessuna gratificazione economica sullo stipendio, insomma sono tutte criticità che vanno affrontate, vanno affrontate oggi con disponibilità di risorse finanziarie, ma pare evidente che se non fossimo stati contemplati all'interno di quello che è la Costituzione non avremmo affrontato la criticità della insularità, quindi questo provvedimento è un provvedimento storico, lo diventa ancora di più qualora si riesce a passare completamente dalle parole ai fatti, ma sicuramente oggi va evidenziato un grande risultato che gli isolani di tutte le isole minori d'Italia portano a casa e sicuramente si possono sentire un poco meno discriminati rispetto al resto d'Italia e tante volte ci siamo sentiti dire che è bello vivere sulle isole, ma noi sicuramente abbiamo dei disagi che solo noi isolani possiamo capire e sicuramente questa è una norma che va nella direzione auspicata, è stato profuso un grande impegno, per la verità è stato fatto un lavoro eccezionale, la Presidenza del Deo ha saputo tenere insieme le esigenze di tutti, ma soprattutto ha saputo tenere insieme la interlocuzione istituzionale e politica necessaria con tutte le forze che siedono in Parlamento e che hanno provveduto ai quattro passaggi per l'approvazione di questo importante riconoscimento. Concludiamo con un ultimo servizio dedicato allo sport. Oggi sono iniziati gli allenamenti della nuova stagione del Real Forio targato Billone Monti. Real Forio che venerdì sera ha ricevuto la lieta notizia del ripescaggio in eccellenza. Il servizio. È arrivata venerdì sera l'attesa notizia rispetto al ripescaggio del Real Forio nel campionato di eccellenza. Dopo la dolorosa retrocessione in promozione il Presidente Amato si era subito attivato per riportare la società biancoverde nel massimo campionato regionale che per sette anni l'aveva vista protagonista e le indiscrezioni positive rispetto alla possibilità di un esito favorevole della domanda di ripescaggio sono state confermate. Il Real Forio è stato ripescato e inserito nel girone A di eccellenza insieme all'Ischia e a diverse squadre competitive che rendono il girone davvero complicato. Quest'anno si ritorna infatti al girone a 18 squadre e a quelle che sono le sue difficoltà sia in ottica salvezza che in ottica promozione. La stagione inizierà il 28 agosto con la Coppa Italia che vede le due isolane inserite in un girone A3 con l'Atletico Calcio. Il campionato al via invece il 3 settembre il girone A è composto da Sant'Antonio Abate, Albanova, Atletico Calcio, Pompei, Savoia, Ischia, Maddalonese, Massalubrense, Mondragone, Napoli United, Pomigliano, Acerrana, Real Forio, Saviano, Ercolanese, Capri, Villaliterno e Virtus Volla. Al termine della scorsa stagione la società ha lavorato per ristrutturarsi da un punto di vista dirigenziale e tecnico subito la scelta di Billone Monti in panchina. A livello dirigenziale l'ingresso di Pepito Caruso dalla Virtus Libera Forio e poi l'allestimento dello staff tecnico sia per la prima squadra che per la cantera biancoverde su cui la società continua a puntare molto. La grande incognita però era relativa alla categoria, un'incognita che ha inciso negativamente sul mercato foriano. Le conoscenze di Billone Monti e il lavoro della società hanno comunque portato a degli innesti interessanti, tuttavia la squadra manca ancora qualcosa e l'obiettivo non potrà che essere quello di una salvezza tranquilla viste le difficoltà di un girone di ferro che vede presenti squadre insidiose sia nella lotta per la promozione che in quella per la salvezza. Oggi sono iniziati gli allenamenti allo stadio Salvatore Calise, tamponi per tutti, primi colloqui e test atletici agli ordini del prof Michelangelo Di Maio, fidatissimo di Billone Monti. Per quanto concerne la rosa sono arrivati i portieri Under, Iandoli dal Giuliano, Cannelora dal Sant'Agnello, tra i difensori Monti dal Barano, Terracciano dal città di Monte San Giovanni Campano, a centrocampo Sogliuzzo e Pistola dall'Ischia, D'Angelo dal Pomigliano. In mediana manca Alisangare che si unirà alla squadra dopo Ferragosto. Tra gli attaccanti ritroviamo Rubino proveniente dal Barano e Solimeno arrivato dal Sant'Agnello. Tra i riconfermati ci sono Accurso, Iacone e Castaldi, si rivede anche Pasquale Savio e ci sono diversi giovani Under provenienti dal settore giovanile. Conoscendo Billone Monti però bisognerà necessariamente rinfoltire i reparti e soprattutto aumentare la qualità e la qualità per poter conquistare la salvezza. E il tempo a disposizione non è più tantissimo. Prima di salutarci, come sempre uno sguardo alle previsioni meteo. Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Un impulso di aria fredda per la giornata di martedì si sposta al centro-sud apportando qui dell'instabilità. Diamo subito infatti uno sguardo alla grafica della nuvolosità. Come vedete non mancheranno ampie schiarite soprattutto al nord. La nuvolosità interesserà soprattutto le regioni centro-meridionali e proprio qui avremo i fenomeni più intensi che coinvolgeranno soprattutto i rilievi appenninici ma non solo perché a tratti verrà coinvolto anche il versante tirrenico. In definitiva infatti ci attiene una giornata di martedì caratterizzata da ampi spazi assolati al nord Italia. Infatti qui il tempo tornerà a migliorare mentre vedremo un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro-sud con rovesci temporaleschi a tratti anche intensi sull'appennino centro-meridionale che sconfineranno soprattutto lungo il versante tirrenico. Le temperature massime saranno in diminuzione al centro-sud, stazionarie al nord con clima sì caldo ma senza particolari eccessi. Come sempre per tutti i dettagli fate riferimento all'app gratuita di Trevi Meteo. È tutto per stasera con il TG News, grazie per essere stati con noi. Il telegiornale di Nuvola TV ritorna domani alle 20.30. Buon proseguimento di serata. Grazie.